Ultima giornata utile oggi per il deposito di liste e candidature con le firme necessarie da parte dei partiti e dei gruppi politici che vogliono partecipare alle elezioni di domenica 24 e lunedì 25 febbraio. I primi a presentare a Palermo la lista in giornata ai delegati di rivoluzione civile. Alla Camera in Sicilia occidentale il capolista e candidato premier Antonio Ingroia, dietro di lui Franco Latorre, Fabio Giambrone, Paolo Ferrero, Giovanna Marano e Anna Falcone. Al Senato capolista l'avvocato calabrese Luigi Ligotti, alle sue spalle Carmelo Costanza, Sandra Murri e Salvatore Mammola. Fra gli ultimi a presentare la lista per il Senato nella giornata di ieri è stato il Partito Democratico, capolista il giornalista Corradino Mineo, dietro di lui Pamela Urru, che ha scalato posizioni dopo l'esclusione dell'uscente Nino Papania. Seguono Venerina Padua, Medeo Bianco, Liliana Modica, Giovanni Barbagallo, Alessandra Siracusa e Luigi Bellassai. Nella giornata di ieri alla Cancelleria della Corte d'Appello di Palermo i primi a presentarsi sono i delegati della lista scelta civica con Monti, che depositano le firme e l'elenco dei candidati per la Camera nel Collegio della Sicilia Occidentale. Al Senato la prima lista invece a fare per fermare il declino, il movimento di Oscar Giannino. Presente di buon mattino anche il Mir, reformazione politica facente riferimento all'esponente del PDL, Gempieno Samorì. Diversi anche gli agrigentini in corsa per quanto riguarda il PDL, Angelino Alfano, capolista alla Camera nella Sicilia Occidentale. Presentata anche la lista al Senato del PDL, da lì conferma sono candidato. Pronte anche le liste di future libertà per la Sicilia Occidentale, l'elenco è fatto. Gianfranco Fini capolista, Fabio Granata numero due, l'ex assessore regionale Alessandro Aricò, al terzo posto seguito dal coordinatore del giovanile Gabriele Vitale. Non ci sono Livio Marrocco, che pure ha fornito da Trapani alcuni candidati, e Luigi Gentile, i due deputati regionali uscenti che non hanno trovato un posto di rilievo in lista. E il movimento Il Megafono Lista Crocetta presenta nella lista, oltre a Beppe Lumia, già presidente della Commissione Nazionale Antimafia, oggi componente, il mecenate Antonio Presti, il magistrato Niccolò Marino, ma anche tante espressioni di una Sicilia che vuole seriamente cambiare, da Placido Rizzotto, nipote omonimo del sindacalista ucciso dalla mafia, a Simona Chines, ex atleta e oggi allenatrice di pallacanestro, al professore Giovanni Nicoletti, cardiochirurgo di Chiarafama, a Giuseppe Antoci, capo aria Sicilia della Banca Sviluppo S.P.A. Giochi dunque ormai fatti in tutti i partiti. Stringiamo l'obiettivo sugli agrigentini in corsa, in particolare su quelli che occupano le prime posizioni, quelle utili per poter ambire ad una poltrona romana. Camera Sicilia Occidentale, cominciamo dal Partito Democratico, terzo posto per Angelo Capodicasa, prima di lui Pierluigi Bersani, capolista, poi Magda Culotta. Al decimo posto troviamo il favorese Tonino Moscat, un gradino dietro Maria Iacono di Caltabellotta. Udc, settimo posto per l'assessore comunale di Agrigento, Nino Amato, in dodicesima posizione il sindaco di Menfi, Michele Botta, PDL, parliamo sempre di Camera Sicilia Occidentale. Capolista Angelino Alfano, segretario nazionale del partito, altri due agrigentini, al sesto e al settimo posto, rispettivamente occupati da Riccardo Gallo, consigliere provinciale del Patto per il Territorio, e dalla favorese Nino Bosco, appena uscito sconfitto dalle regionali. E veniamo alla scelta civica, lista del professore Monti guidata da Gea Schiroplaneta. Scorrendo la lista troviamo al sesto posto il farmacista agrigentino Paolo Minacori. Parliamo di SEL, capolista Laura Boldrini, il migliore piazzamento per il candidato agrigentino e la quinta posizione con Giovanna Triassi. La destra di Storaciche, capolista, terzo posto l'agrigentino Domenico Incardona, dirigente nazionale del partito. Più in basso, in settima posizione, il palmese Stefano Castellino, ex assessore provinciale. E passiamo alle liste al Senato. In Sicilia, terza posizione per l'agrigentino Benedetto Adragna, ex PD, ora nella lista per l'Italia con Monti. Nelle parti basse, l'imprenditrice Piera Greceffa. PDL, quarta posizione per il saccense Giuseppe Marinello, deputato uscente, e il riberese Giuseppe Ruvolo, dei PD, cantiere popolare, partito con il quale il popolo della libertà è da tempo alleato. MPA, capolista al Senato, Raffaele Lombardo, numero due, l'agrigentino Roberto Di Mauro, capogruppo all'Ars del Movimento Autonomista. Quindi credo che noi svolgeremo un ruolo importante. Da un lato il popolo della libertà, credo che si chiami così, dall'altra il Movimento per l'Autonomia. Quindi un confronto serrato che ci sarà sul territorio.